La squadra può fare meglio dell'anno scorso, mica raga, il mio cane ha scorreggiato, il mio cane ha scorreggiato e vi sta facendo morire, mamma mia! Prima di parlare di Milan posso fare una domanda a tutti i papà e a tutte le mamme d'Italia che probabilmente lo avranno già comprato ai loro figli. Ma che cazzo serve sto coso? Cioè tu vai nel negozietto, sapete quello che vengono le cianfrusaglie dei cinesini? E tuo figlio, tuo figlio ti dice si mette a piangere, lo voglio! Ma che cazzo serve sto coso? Diovole Rosso, Rosso Neri, campioni d'Italia! Ma mi sto sce meglio che lo metto giù perché io sono lo più bambino di mio figlio, va a finire che glielo spacco prima che torna a casa e poi mi fa un bucio di culo così! Bentornati sul canale, ragazzi! Non ho voglia di sì, non c'è un cazzo da dire raga, poche chiacchiere, non c'è un cazzo da dire! Cosa facciamo? Parliamo degli altri duecento nomi che ho letto stamattina, stamattina è venuto fuori Bale, Asensio, Coulibaly, lasciamo stare che è meglio! Iscrivetevi al canale e lasciate il like, però voglio comunque tenervi in compagnia anche oggi e vado a rispondere a una domanda! Cazzo che inquadratura che oggi faccio dall'alto! Voglio rispondere a una domanda che mi fanno in parecchi, quindi al posto di rispondere lì uno per uno sotto il canale vi rispondo! Tanti mi chiedono che sensazioni hai per il Milan, questo nuovo progetto, questa nuova proprietà, il calciomercato! Io ragazzi vi dico la mia! Io non sono uno che si fa influenzare dalle chiacchiere da bar! Cioè, cosa voglio dire? Io non mi faccio influenzare dalle paure che rilasciano i giornali sul Milan, sul fatto che questo non comprerà nessuno, oppure sul fatto che l'Inter sta comprando Dybala, Lukaku, sul fatto che la Juve sta prendendo... Io non mi faccio influenzare! Prima cosa, io guardo il mio Milan! Io vedo che questa squadra può fare meglio dell'anno scorso! Mica raga, il mio cane ha scorreggiato! Il mio cane ha scorreggiato e vi sta facendo morire, mamma mia! Mamma, che cazzo si è mangiato? I topi morti si è mangiato! Vado avanti il video camminando! Io ragazzi, come vi dicevo, non mi faccio influenzare da nessuno! Io sono convinto che questo Milan farà grandi cose anche quest'anno! Noi parliamo di una squadra che è campione d'Italia! Quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti, ci godiamo! Questa estate da campioni d'Italia, soprattutto! Ed è quello l'importante! Paura di nessuno! Perché io sono convinto che questo nuovo proprietario ci può portare ancora più in alto, soprattutto in Europa! Ci vorrà tempo, ma lo farà! Si parla di stadio di proprietà da soli, senza Inter! È vero, tanti dicono sono chiacchiere, vogliamo vedere i fatti! I fatti arriveranno! Ma perché io, non è che io lo conosco, io sono sempre positivo! Vedo il positivo e non guardo gli altri! Io non sto guardando cosa fa l'Inter, non sto guardando cosa fa! Io guardo il mio Milan, vedo un Milan che ha vinto lo Scudetto, vedo un Milan che l'anno scorso probabilmente, senza infortuni, avrebbe vinto comunque lo Scudetto, già un anno prima! E questo ragazzi, non c'è dubbio, l'abbiamo visto tutti! Quindi sono molto molto positivo, ho sensazioni sempre positive! Poi sul calciomercato, io ragazzi, non guardo i 2200 nomi al giorno! Perché tanto? Sono solo puttanate! Puttanate di giornalisti, puttanate di giornalai, puttanate di gente su YouTube che si spaccia come io la fonte! Ma in realtà la fonte è Pianeta Milan, Milan News, i video della mattina che escono fuori dai giornalisti! Quelle sono le loro fonti, quindi io non mi faccio influenzare da queste cose qua! Arriverà Bremer? Buono! Arriverà Botman? Buonissimo! Non arriva Decatelar? Ne prenderemo un altro! Ma io in questo momento mi godo l'estate da campione d'Italia, è quello l'importante! Poi è vero, il futuro, ragazzi, è importante, ci mancherebbe! Però c'è tempo, c'è tempo! Io sono positivo! Non fate influenzare da voci che mettono in giro zizzagna sul Milan, voci che cercano di impaurirvi perché quello comprerà, quello comprerà, quello comprerà! State tranquilli, ragazzi! State tranquilli! Perché se no si rischia di fare come l'anno scorso! L'anno scorso, se qualcuno si ricorda, prima del derby dove abbiamo rimontato 2-1, abbiamo fatto una live dove c'era una negatività incredibile, il calciomercato del Milan a gennaio era stato disastroso e il 90% del milanisti erano negativi, ne prendiamo 5, non vinceremo mai! E poi, alla fine, vram! L'avete preso tutti in quel posto e abbiamo vinto lo scudetto! Quindi, ragazzi, passate una bella estate, sereni da campioni d'Italia! Vi voglio bene a tutti e sempre forza di amiche! Speriamo che il mio cane non scorreggia più perché prima mi ha ammazzato!